Stavolta signori ci spostiamo su un argomento leggermente diverso ma che probabilmente interesserà una platea molto 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 più ampia di quella solita, ovvero reddito di cittadinanza perché è uscito fuori un nuovo modulo per far domanda. E attenzione perché ogni volta che c'è qualche novità è sempre meglio saperla, assolutamente. Quindi vi faccio sapere che l'Inps ha aggiornato il modulo per fare domanda al reddito di cittadinanza e questo alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022. Nello specifico ha modificato e semplificato la modalità di compilazione del quadro F, cioè quello relativo alle condizioni per poter beneficiare del reddito. La legge di bilancio ha modificato le regole, le regole in materia di controlli circa le presenze di condanne che fanno poi scattare la revoca del reddito, in particolare i reati individuati dal comma 3 articolo 7 della legge 4 2019 che prevede quanto adesso vi dirò, ovvero alla condanna in via definitiva per i reati di cui ha i commi 1 e 2 per quelli previsti dagli articoli 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis, 416 terra, 422, 600, 600 bis, 601, 602, 624 bis, 628, 629, 630, 640 bis, 644, 648, 648 bis, 648 ter del codice penale, così li abbiamo inseriti tutti e adesso e tra pochissimo vi faccio sapere perché ve li ho letti tutti, tutti, è una cosa molto importante signori. Insomma, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis del codice penale per i cui reati di cui ha l'articolo 73 commi 1, 1 bis 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva del testo unico di cui ha il decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, numero 309, nonché articolo 74 in tutte le ipotesi aggravate di cui ha l'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, numero 309, e per i reati di cui ha l'articolo 12, 1 quando ricorra l'aggravante di cui ha il comma 3 ter e comma 3 del testo unico di cui ha il decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue, ecco a cosa porta tutto questo, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva, si va a guardare anche indietro, attenzione, e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'Inps ai sensi del comma 10 e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla condanna. Dopo tutte queste modifiche, la compilazione della domanda Inps per il reddito è stata modificata, sì, è stata modificata a una sezione in particolare, sezione relativa alle dichiarazioni sulle misure cautelari e sulle condanne per i reati individuati della normativa di riferimento, in particolare sono stati separati i dati del richiedente rispetto a quelli del nucleo familiare. Lo riporta il messaggio numero 3684 del 7 ottobre 2022. L'Inps quindi specifica che il controllo automatizzato sulla presenza di condanne con sentenza passata ingiudicato da meno di 10 anni è effettuato su tutti i richiedenti e i percettori del reddito e della pensione di cittadinanza tramite il casellario centrale del Ministero della Giustizia. Insomma, signori, qui si fanno tantissimi controlli, quindi io vi invito veramente a fare attenzione sul fatto se potete prenderlo o no, mi raccomando, perché qui alla fine sembrerebbe che non si scappa. Ricordo che il modulo per far domanda è presente sul sito ufficiale del beneficiario, nella sezione si chiama proprio richiedi o accedi, o sul sito Inps seguendo il percorso prima prestazione e servizi, poi RDC e PDC, reddito e cittadinanza, pensione e cittadinanza. Questo è tutto per questa notizia, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiremo alla prossima, sempre qua.